Come consigliere nazionale LAV posso dire che il problema degli attacchi alle greggi è relativo soprattutto a una mancata gestione del randagismo canino, c'è la titanza delle istituzioni, ci sono cani mal gestiti, mal controllati e spesso sono cani degli stessi allevatori. Sono questi che per la maggior parte procurano gli attacchi alle greggi, non sono i lupi, non sono gli ibridi, quindi una corretta gestione del randagismo canino è la soluzione, comunque un grosso passo verso la soluzione. Questo a prescindere dal fatto che per la LAV l'allevamento, il consumo di carne, il consumo di prodotti animali vanno superati. Dobbiamo andare verso un mondo che non consumi più prodotti animali, questo per un motivo etico ma anche per un motivo ambientale. L'impatto degli allevamenti è fortissimo sul nostro ambiente e quindi superarlo significa stare meglio tutti. Oltretutto si risparmierebbero sofferenze e morte a milioni e milioni di animali ogni anno solo in Italia.